Oggi ho uno strumento per le mani che sembra quasi da James Bond, si chiama DJI Osmo Camera. Questo oggetto che vedete nelle mie mani è veramente qualcosa di strepitoso. Intanto comincio a registrare anch'io per fare un lavoro al contrario. Questa è una videocamera 4K con un'altissima definizione, ma soprattutto con un sistema di stabilizzazione. Guardate cosa succede quando io muovo questa videocamera. Vedete che la parte frontale va sempre a puntare lo stesso obiettivo, quindi ciò che io ho inquadrato in quel momento. Questo perché? Perché questa videocamera che viene venduta ad un prezzo leggermente superiore ai 600 euro è in realtà uno strumento che potrebbe oggi quasi sostituire le cosiddette stedicam, cioè quelle telecamere che venivano utilizzate anche nelle produzioni televisive, anche al cinema, per stabilizzare l'immagine. La caratteristica è che quando io muovo molto velocemente questo oggetto dall'alto verso il basso, oppure in orizzontale, un sofisticato sistema di oscilloscopi, di giroscopi e di altre tecnologie, che vengono poi tutte gestite dall'elettronica della videocamera, muovono l'obiettivo in modo molto organico, diciamo morbido, per fare delle riprese che ormai si avvicinano veramente a quelle cinematografiche. In questo momento invece ad esempio sto usando, vedete, la modalità selfie. Ho detto in modo molto facile attraverso l'applicazione a DJI di muovere la Osmo verso il mio viso. E in questo momento il mio viso è ciò che la telecamera cerca nel momento in cui fa una ripresa. Tutto questo sempre cercando di bilanciare lo spostamento dell'immagine in modo molto morbido, molto organico. Guardate, questo è un oggetto da usare in modo molto divertente, adesso mi tolgo la fotocamera da addosso perché mi fa impressione, è un oggetto da usare in modo molto divertente, ad esempio facendo delle riprese all'aperto, durante le attività sportive, volendo anche correndo. È impressionante il risultato della ripresa di questo oggetto quando vi muovete velocemente seguendo una persona che si muove oppure magari un mezzo, anche un automezzo, una moto in movimento. Ci sono molti accessori di cui questo oggetto è dotato, ad esempio per agganciarla ad un'automobile e fare delle riprese in corsa. In questo momento, vedete, io uso nel modo più semplice possibile con l'applicazione aperta sullo smartphone, con lo smartphone agganciato al supporto che è dato in dotazione, ma volendo si può agganciare la Osmo sui suoi supporti, ad esempio fuori da un'automobile oppure dentro l'automobile e poi comandarlo con il telefonino anche a diversi metri di distanza. Insomma, è un oggetto molto sofisticato per gli appassionati di riprese che, diciamo, porta molto oltre quella che era la qualità. E che è la qualità di GoPro. DJI Osmo è dunque un oggetto molto sofisticato ma allo stesso tempo semplice da utilizzare. Allora, fa delle riprese in 4K, ha questo sistema di stabilizzazione che è molto divertente da utilizzare, ha un sensore poi fotografico da 12 megapixel con un'ottima resa anche con una luminosità molto bassa. Quando voi scattate delle fotografie o, insomma, girate dei video, li memorizzate su una microSD che è all'interno, in pratica, della parte fotocamera. Potete poi molto facilmente, attraverso il Wi-Fi totalmente senza fili, trasferire video e fotografia direttamente al vostro telefonino. È compatibile tanto con i telefoni Android quanto con i telefoni di iOS. Il costo sul mercato è all'incirca di 650 euro. C'è anche, tra l'altro, devo dire, un ottimo servizio di assistenza anche in tempo reale per qualunque difficoltà possiate avere nell'utilizzarlo. Si aggiorna anche in modo molto facile collegandola direttamente al telefonino e volendo potete anche collegare un microfono esterno, quindi per avere magari una qualità dell'audio superiore. Ma se siete appassionati di riprese video, magari in condizioni un po' avventurose, questo è veramente un oggetto da Mr. Gadget, la DJI Osmo.